www.cicli.eurobike.it Il nostro viaggio tra i saperi e i sapori ma anche attraverso la cultura. Infatti potremo assistere in questo momento a quella che è una lunga tradizione di abiti d'epoca. Venite con me. Permesso, Raffaella Lorusso dell'Associazione Centro Studi e Ricerca Lundine. Ecco parliamo di questa associazione e in particolare di questi abiti. Il Centro Studi Lundine nasce 13 anni fa per volontà del nostro presidente fondatore, il professor Raffaele Ceci. Nasce perché volevamo dare alla città un evento di rievocazione storica che avesse una qualità particolare ed eccellenza. Non peraltro sono 13 anni che siamo sulla cresta dell'onda negli eventi del Sud Italia. Il nostro evento narra la vicenda dell'incoronazione più che altro, della donazione del feudo più che incoronazione, di Gravina da parte di Re Carlo II D'Angio a Giovanni Conte di Mofort. Attraverso questo evento abbiamo creato il cerimoniale che appunto viene messo in scena durante la tre giorni dell'evento, che si svolge puntualmente a Gravina da 13 anni, il terzo weekend di settembre. Abbiamo un patrimonio, come avete potuto notare in questa mostra permanente, già preparata per Matera Capitale 2019, che legherà il territorio gravinese anche attraverso la rievocazione storica, un patrimonio di 318 costumi. Questi costumi sono fedelmente ricostruiti e prendono spunto da quadri, da Freschi, da Giotto, Lorenzetti, Calderoni, da Martini e siamo sempre alla ricerca attraverso le icone di poter carpire quanto di più possa essere fedele l'abito. Il Centro Studi in Undine fa parte da qualche anno del Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche, il CERS, che ha sede a Venezia e questo ci freggia ancora di più di avere una rievocazione storica di qualità. Sono tre anni che a partire dal decennale la novità che il Centro Studi in Undine ha portato a Gravina è quella della evoluzione storica e come avete potuto notare all'interno del corridoio c'è un'altra realtà assieme a noi, che è la Fondazione San Tomasi, che è un ente morale della città di Gravina, a cui il nostro patrimonio di costumi ed arredi è ancorato. Parliamo in particolare di questo abito, che è un abito femminile, giusto? Un abito femminile. La particolarità di questo costume, ma in genere i costumi particolari aristocratici, soprattutto quegli angioini, che arrivarono in Italia un po' per togliere tutto quello che era rimasto del medioevo buio federiciano ed era molto tutto sfarzoso, era tutto parecchio sfarzoso, erano appunto l'utilizzo di grandi mitrature di stoffa, come un esempio questo costume. Ed erano bordati, soprattutto, di questi bordi, perdonate insomma il gioco di parole, impreziosito con perle, pietre dure e addirittura ricamati. In più la particolarità di questo vestito è lo scollo, addirittura da Dante citato nella Divina Commedia come finestra d'inferno. Tenete conto che durante il periodo angioino era così tanto lo sfarzo che vennero emesse addirittura delle leggi, dette le leggi suntuarie, che regolamentavano l'utilizzo dell'abbigliamento nella donna, soprattutto nei luoghi come le chiese, che molto spesso erano gli unici luoghi dove ci si poteva insomma mostrare ed erano troppo sfarzosi gli abiti. E le leggi suntuarie servirono appunto a regolamentare l'abito, ma ovviamente fatta la legge è trovato l'inganno e ci ritroviamo poi abiti che erano comunque sfarzosi.